Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Rispetto a quanto visto nei giorni scorsi, gli aggiornamenti dei modelli di oggi sembrano andare verso una strada comune per quello che riguarda la prossima settimana. Tra domenica e lunedì i principali modelli mostrano un promontorio anticiclonico in espansione verso il Mediterraneo centrale. Tempo che si farebbe dunque più stabile proprio con l'arrivo delle strade di San Martino, confermando dunque questo periodo di novembre in cui spesso le condizioni meteo risultano stabili e con temperature gradevoli. Anche per i giorni seguenti, sia il modello GFS che CMUWF mostrano un rinforzo dell'alta pressione proprio sulla nostra penisola. Attenzione però perché l'anticiclone in questi periodi porta anche il ristagno di umidità nei bassi strati, con nebbie e nubi basse su valli e pianure. Inoltre, se le condizioni anticicloniche dovessero persistere per più giorni, si avrebbe anche un aumento degli inquinanti nell'aria, con diminuzione della sua qualità. Seguite allora sul nostro sito sul canale YouTube l'Evoluzione Meteo per la prossima settimana. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.